Stefano De Martino shock sul figlio, ho contattato il mio avvocato. Ecco cosa è successo. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati davvero insieme. Stefano De Martino e Belen Rodriguez formavano un bellissima coppia. Poi con la nascita di Santiago il loro amore ha raggiunto lapice. Purtroppo dopo anni di matrimonio i due si sono lasciati e addirittura cè stato un allontanamento. Dopo anni il ballerino napoletano e la sobretta argentina hanno avuto un riavvicinamento, soprattutto per il bene del loro figlio. Ma un paio di settimane fa è stato lanciato uno scoop clamoroso. Di due si sono scambiato un bacio in aeroporto, di cui si è molto favoleggiato. Belen e lex marito Stefano De Martino torneranno insieme. Le foto pubblicate dal magazzine di Gossip Key, adesso si arricchisce anche di un video condiviso dal direttore del settimanale Alfonso Signorini. Stefano De Martino vuole adottare un figlio per dare un fratello a Santiago. Senza ombra di dubbio, per Stefano De Martino l'amore più importante della sua vita è il figlio Santiago. . Ma per l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi il suo cammino non è tutto rose e fiori, purtroppo ci sono anche delle delusioni. . Qualche settimana fa, ospite del nuovo programma televisivo Rivelo, condotto da Lorella Boccia su Real Time, l'ex marito di Belen Rodriguez ha confessato qual è la sua più grande delusione. . Mio figlio mi chiede di avere un fratello e io, per colpa della mia paura nei confronti della precarietà dei rapporti, non posso accontentarlo. . Una rivelazione davvero clamorosa, per lui che è ancora giovane per non fidarsi di una nuova partner e iniziare una relazione insieme. Ho contattato il mio avvocato, che mi ha parlato della possibilità di adottare un bambino anche da single. Ma è molto difficile adottare. . Oggi sono pronto a regalare a un bambino meno fortunato di Santiago una nuova vita. Ha detto il nuovo conduttore di Made in Sud. . 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 Ciao